Buongiorno a tutti, eccoci al nostro secondo webinar live a cura di Kiri Group, società tech che offre consulenza integrata per la digital transformation di Milano. Anche Kiri Group è presente con il suo ufficio virtuale e i suoi recruiter e quindi al termine del webinar potrete approfondire la conoscenza ed eventualmente prontare un colloquio conoscitivo con loro. Do il benvenuto alla relatrice dell'intervento, Elena Fasolo, Senior Manager per il Centro di Competenze IT Operational Analytics di Kiri. Elena ci parlerà dunque di analisi dei dati con il suo intervento dal titolo Smart Monitoring dal dato all'informazione. Lascio subito la parola ad Elena, per qualsiasi necessità siamo in ascolto, ci vediamo fra 45 minuti. Grazie. Eccoci qua, buongiorno a tutti, è piacere di avervi qui. Come anticipato oggi parleremo di Smart Monitoring, ovvero di come far evolvere l'approccio del monitoraggio dei servizi IT verso un monitoraggio che risponda di più a quelle che sono le esigenze del business e le esigenze relative ai cambiamenti che ci sono in atto nel mondo dei servizi digitali. Come anticipato, io sono Elena Fasolo, mi occupo da 15 anni di monitoraggio dei servizi dell'IT e ho seguito nel tempo l'evoluzione che questo ambito ha percorso nella storia dei tempi. Kiri Group è un'azienda, un sistema integrator attivo nel territorio italiano con una forte radicazione nel territorio italiano, ma è anche un'azienda internazionale poiché abbiamo delle sedi in Europa, in Spagna, Portogallo, Isto Europa e anche in Africa dove stiamo cercando di sviluppare il nostro business. Il business di Kiri Group è prevalentemente centralizzato nell'offrire ai nostri clienti servizi e tecnologie a supporto del mondo di IT e siamo sempre focalizzati nell'identificare approcci e soluzioni innovative per portare valore nella gestione dei servizi dell'IT. Il monitoraggio per noi è proprio un ambito di punta per questi aspetti dove cerchiamo sempre approcci e soluzioni innovative ed è anche uno degli ambiti che stiamo cercando di sviluppare e di portare all'estero. Quello che faremo oggi è approfondire un po' di più qual è la componente innovativa che serve mettere in pista nel mondo del monitoraggio. Vi prego di fare qualsiasi domanda che vi venga in mente nel corso dell'intervento per motivi di tempistiche tecniche terrò un po' di tempo alla fine per rispondere alle vostre eventuali domande. Nella prima slide avete visto comunque anche i miei riferimenti quindi se avete piacere sono disponibile anche a rispondervi via mail qualora aveste qualsiasi dubbio, domanda, chiarimento, curiosità rispetto ai temi che affronteremo nel corso della presentazione. Prima di addentrarci negli aspetti più tecnici vorrei condividere con voi il motivo per il quale oggi in questo periodo è importante parlare di monitoraggio. Il monitoraggio è un tema che nel mondo dell'IT nasce insieme all'IT stesso perché nel momento in cui io devo andare erogo dei servizi basati su delle tecnologie IT ho la necessità anche di verificare che questi servizi funzionino correttamente siano disponibili e svolgano il lavoro che devono svolgere. Quindi insieme alla nascita dei servizi IT è nato anche il tema del monitoraggio. È un tema quindi consolidato che tutte le aziende conoscono e per il quale tutte le aziende ci sono adottate di strumenti adatti rispetto ai servizi che devono andare a monitorare. Quindi perché oggi è importante tornare su questo tema e parlare di soluzioni innovative in ambito del monitoraggio? Perché si stanno realizzando degli importanti cambiamenti che pongono ai team che si occupano di gestione operativa delle nuove sfide che devono affrontare con approcci innovativi e talvolta anche ripensando agli strumenti che hanno in casa per poter affrontare questa tipologia di aspetti. Prevalentemente le sfide che arrivano nel mondo dell'IT arrivano dal business perché i servizi dell'IT sono sempre più legati al mondo del business. La gran parte delle aziende anche nel territorio italiano basa il proprio business sull'erogazione di servizi digitali e i servizi digitali poggiano necessariamente su servizi tecnologici messi a disposizione dal mondo dell'IT. per cui il business riempie sempre di più di aspettative e di sfide l'erogazione di questi servizi spingendo sempre oltre la richiesta di performance verso il mondo dei servizi dell'IT. Performance non solo di tipo di disponibilità e di tempi di risposta ma anche performance legate alla customer experience all'usabilità dei servizi all'intuitività con cui questi servizi vengono esposti alla capacità di andare velocemente sul mercato. Quindi il business chiede sempre di più al mondo dell'IT di progettare e deliberare servizi che siano performanti sotto questi aspetti. Poi dall'altra parte abbiamo dei grossi cambiamenti a livello tecnologico. A livello tecnologico si sta realizzando anche in Italia un po' più in ritardo rispetto a quello che sta accadendo nel contesto mondiale un grosso cambiamento delle architetture applicative. Il cambiamento sta interessando due aspetti. Il primo il fatto che le architetture applicative sono sempre più distribuite non sono più centralizzate all'interno dei data center delle aziende ma sono sempre più configurate come delle architetture ibride con componenti all'interno dei data center piuttosto che con componenti in private cloud piuttosto che con componenti erogate in modalità servizi SaaS in public cloud. Quindi la distribuzione delle componenti in più parti è sicuramente un aspetto importante da considerare dal punto di vista del monitoraggio. Ma non solo. Le architetture applicative stanno passando da un'architettura tradizionale basata sui tre classici livelli front-end, back-end e base dati a un'architettura basata sui microservizi e sempre più le aziende italiane hanno oggi in produzione applicazioni e servizi digitali basate sul concetto dei microservizi ovvero piccole parti di codici applicativi che collaborano insieme per erogare un servizio all'utente finale. Questo fa sì che le componenti oltre a essere distribuite sono tantissime e soprattutto sono dinamiche nel tempo e anche questo pone sicuramente delle nuove sfide a chi deve controllare la disponibilità e le performance di architetture di questo tipo. Infine, come dicevo prima, gran parte delle nostre aziende dispone di tante piattaforme a supporto dell'erogazione dei servizi IT. Queste piattaforme stanno generando oggi un volume di dati considerevole che è sempre più difficile gestire e analizzare in tempo reale con le tecniche tradizionali che gli strumenti attuali mettono a disposizione. Questi sono, dal nostro punto di vista, gli ingredienti che pongono delle nuove sfide a chi deve occuparsi di municielaggio degli servizi dell'IT e che possiamo riassumere con questi quattro elementi. Una delle sfide che dobbiamo affrontare è sicuramente legata al mondo dell'elaborazione, quindi come elaborare in real time in modo efficiente volumi di dati che crescono esponenzialmente nel tempo proprio grazie al fatto che esistono molteplici strumenti che raccolgono queste informazioni dal campo. Seconda sfida è come garantire a chi deve gestire e monitorare i servizi IT una visibilità complessiva su queste architetture che sono dinamiche, che sono composte di tanti componenti, e che sono distribuite nei data center, nei cloud in configurazione ibrida. Terzo elemento, come far fronte alla richiesta di performance sempre più spinte dal mondo business. Performance sempre più spinte, come dicevo, non solo dal punto di vista dell'affidabilità, servizi che devono essere sempre disponibili, H24, il 100% del tempo, devono essere velocemente accessibili, ma devono anche soddisfare la customer experience. Oggi sappiamo che se un servizio digitale non è ben disegnato, non è performante e non è intuitivo, spesso l'utente abbandona, disinstalla la app oppure cambia servizio. Oggi cambiare servizio e cambiare interlocutore è molto semplice e quindi più i servizi sono efficienti, più catturano l'attenzione dei propri utenti. Infine, l'ultima sfida, una sfida ben nota a chi ha a che fare con il mondo delle operation e dell'erogazione dei servizi IT, è la sfida dei costi. Tutte le sfide precedenti devono essere risolte pur mantenendo dei costi limitati e dovendo sempre combattere con i tagli di budget che affliggono il mondo dell'IT. Quindi dal nostro punto di vista questo scenario con queste sfide ci pone nelle condizioni di rivalutare il modo con cui andiamo ad elaborare e a monitorare i servizi dell'IT per pensare a introdurre delle innovazioni tecnologiche che ci consentano di svincere queste sfide. In questa immagine abbiamo voluto rappresentare quelli che sono gli ambiti conosciuti del mondo del monitoraggio e come questi ambiti devono collaborare tra di loro per dare una risposta alle sfide che abbiamo visto prima. Ci sono degli ambiti molto consolidati dal punto di vista del monitoraggio per i quali esistono delle soluzioni sul mercato da molto tempo come ad esempio l'ambito del monitoraggio infrastrutturale. Ci sono ambiti verticali di monitoraggio che sono più moderni, più recenti come ad esempio il monitoraggio della customer experience che mira a raccogliere delle metriche sull'affidabilità, sulle performance, sulla usabilità dei servizi digitali lato utente quindi dai browser e dalle app e ci sono degli ambiti invece che abbiamo imparato a conoscere di recente come ad esempio l'ambito dell'application performance monitoring che consente di andare a monitorare le applicazioni digitali e tramite una visibilità che sia end to end su ambienti distribuiti. Quello che però noi crediamo che sia un elemento di innovazione e su cui si stanno confrontando le aziende che sono più visionari dal punto di vista del monitoraggio è la parte centrale di questa immagine ovvero individuare delle strategie per mettere a fattore comune i dati raccolti dai diversi ambiti di monitoraggio e dai diversi ambiti tecnologici dell'IT per analizzarli in un modo correlato sinergico e per estrarne fuori delle informazioni di sintesi che siano utili e di valore per il business quindi serve un tassello in più non serve più dotarsi di strumenti tecnologici in grado di monitorare i diversi aspetti del mondo dell'IT serve un tassello in più per fare in modo che i dati che io raccolgo sul campo possano essere interpretati in maniera sempre più veloce e sempre più sintetica per fornire informazioni questo è l'approccio che vogliamo approfondire oggi nella parte centrale di questa immagine quindi andare a capire come si può portare avanti un approccio di questo genere quali sono gli strumenti che sono a disposizione per far questo e quali sono degli use case concreti che ci portano a realizzare questo obiettivo lo possiamo immaginare questo obiettivo come un processo abbiamo detto che abbiamo a disposizione una grande quantità di dati questi dati sono raccolti sul campo e tutto il mondo dell'IT ne ha una grossa disponibilità quando pensiamo all'insieme di dati che abbiamo a disposizione pensiamo non solo alle metriche ma pensiamo anche a dati destrutturati che possono essere presenti all'interno dei nostri strumenti sono eventi sono messaggi sono log l'obiettivo è quello di passare questi dati attraverso un processo di elaborazione di correlazione di normalizzazione di sintesi che possa produrre delle informazioni strutturate dove queste informazioni possono essere non solo a loro volta dei KPI di sintesi ma possono anche essere azioni che danno degli input per delle attività di automazione per essere integrate negli ambiti applicativi per sostenere delle decisioni cioè il percorso che vogliamo portare avanti è abbiamo tanti dati dobbiamo trovare un modo per trasformarli e renderli fruibili in real time in modo veloce con un valore aggiuntivo superiore ai dati di partenza perché possiamo oggi focalizzarci su questo obiettivo perché oggi di più che rispetto al passato ci sono tutta una serie di supporti di tecnologie e di piattaforme anche che ci consentono di realizzare questo tipo di obiettivo si sono superati oggi dei limiti che erano presenti nel passato che ci consentono di affrontare un percorso di questo tipo dal punto di vista della raccolta dei dati la maggior parte delle aziende sono già ben strutturate con degli strumenti a supporto della gestione dell'IT che raccolgono dati sul campo abbiamo parlato prima delle piattaforme di monitoraggio quindi del monitoraggio infrastrutturale del monitoraggio della security monitoraggio applicativo il monitoraggio della rete della customer experience sono tutte fonti che alimentano la raccolta di dati sul campo c'è una grossa mole di dati che è presente all'interno dei file di log che è una componente di dati distrutturati e ci sono poi tutta una serie di dati a corredo che non sono dati strettamente relativi all'andamento dei servizi ma sono dati ad esempio di anagrafica sono cataloghi servizi sono dati che risiedono all'interno dei cmdb aziendali sono dati che rappresentano le architetture applicative bene tutta questa insieme di dati deve essere in qualche modo trasformata e oggi lo si può fare perché esistono delle tecnologie che consentono di portare questi dati a fattore comune all'interno di database non relazionali che consentono di elaborare analizzare storicizzare dati non strutturati e perché esiste oggi la potenza computazionale per far girare sopra questi dati algoritmi di machine learning di intelligenza artificiale che li possano elaborare per trarne informazioni quindi queste tecnologie oggi sono accessibili e soprattutto sono accessibili a dei costi ridotti rispetto al passato e questo ne rende molto più facile la diffusione e la disponibilità all'interno delle nostre aziende si tratta quindi di metterli in pista e di utilizzarli per ricavare le informazioni che dicevamo prima le informazioni possono essere rappresentate tramite dashboard di sintesi da dare al management da dare al business ma per noi informazioni sono anche output che alimentano attività di automazione che fanno sì che la nostra infrastruttura e i nostri servizi IT ricevano da queste elaborazioni dei feedback per poter automaticamente adeguare le loro risposte a questi feedback è un circolo virtuoso che oggi può essere messo in pista grazie proprio al superamento di certi limiti tecnologici che in passato c'erano ricordiamo che ad esempio il machine learning gli algoritmi di intelligenza artificiale non sono nati oggi oggi si utilizzano algoritmi disegnati anche decine di anni fa che però oggi è possibile far girare in tempo reale su una grossa mole di dati per avere dei riscontri velocemente questo processo che vi ho descritto può essere messo in pista e le aziende con cui collaboriamo lo stanno mettendo in pista secondo due diverse tipologie di approccio un approccio che chiamiamo domain centrico è un approccio che possiamo chiamare cross domain l'approccio domain centrico di analisi ed elaborazione dei dati con tecniche innovative mira a diciamo ad elaborare degli dati che sono omogenei per contesto al fine di utilizzarli e ricavare delle informazioni in modo più efficiente è un approccio che è più tattico se volete perché la mole di dati da elaborare è limitata è un approccio secondo il quale esistono sul mercato già delle soluzioni che consentono di portarlo avanti e sicuramente dà i primi benefici nell'efficientamento dell'elaborazione dei dati degli strumenti che noi abbiamo a disposizione tuttavia ha dei limiti perché ci sono molti comportamenti e molti fenomeni che possono essere spiegati analizzati solo mettendo a fattore comune informazioni come dicevamo prima che vengono da fonti dato eterogenee ed è questo su cui si focalizza l'approccio cross domain ovvero portare a fattore comune informazioni cross informazioni cross ambito elaborarle e ricavare le informazioni mentre il primo approccio è stato già indirizzato dai vendor di mercato che hanno inserito all'interno dei loro prodotti modalità di analisi innovative per migliorare sia i tempi di analisi e sia le informazioni che ne escono l'approccio cross domain è un approccio che è un po' è sicuramente più strategico è più indietro dal punto di vista della disponibilità di tecnologie perché è più complesso da attivare serve una piattaforma sicuramente più complessa e anche un percorso una maturità a livello di organizzazione dell'IT sicuramente più avanzata il futuro si sta focalizzando nel concentrarci sugli approcci cross domain per fornire sempre più piattaforme out of the box che siano in grado di analizzare dati che provengano in modo destrutturato da tante fonti e ricavare delle informazioni per ora le aziende più visionarie su questo ambito stanno cercando di mettere in pista dei progetti custom talvolta realizzati tramite l'utilizzo di piattaforme integrate e anche custom per risolvere determinati use case quindi questo è un po' a livello teorico quello che si sta facendo in quest'ambito dal punto di vista dell'evoluzione dell'ambito del monitoraggio quello che vorrei fare è cercare di concretizzare queste parole portando alla vostra attenzione alcune applicazioni pratiche di questi due approcci quindi come gli approccio cross domain o domain centrico può portare nella pratica valore all'interno delle nostre aziende come può anche essere effettivamente realizzato in pratica con quali strumenti con quali tecniche di analisi e così via quindi nella seconda parte di questo intervento vi presenterò alcuni case alcuni relativi all'approccio cross domain alcuni relativi all'approccio domain centrico esemplificativi di come queste tecniche vengano applicate su quali tipologia dei dati effettivamente sia stato fatto sono degli use case generici ma che di fatto noi abbiamo realizzato con il nostro team e con i nostri clienti in campo e stanno dando i loro frutti in produzione tutti i giorni il primo da cui vorrei partire si riferisce al mondo della cyber security e in particolar modo al mondo del monitoraggio delle frodi sui pagamenti bancari è un contesto dove sicuramente c'è molta attenzione il mondo dei pagamenti bancari è sicuramente un mondo dove i servizi digitali stanno spingendo molto per tutti noi utenti è piacevole poter accedere a questa tipologia di servizi dal telefono dal browser tramite carte virtuali tramite le carte di credito quindi è sicuramente dal punto di vista dell'utente finale è un insieme di servizi facilmente utilizzabili e con i quali gli utenti interagiscono in modo intuitivo e facile dal punto di vista invece della gestione di queste tipologie di servizi ci sono naturalmente delle sfide enormi da affrontare e una di quelle più importanti è fare in modo che questi pagamenti che avvengono in modo distribuito multi device in tempo reale velocissimo non siano soggetti a frode dove le frode in realtà sono molto le possibilità di frode sono molto frequenti perché i canali a cui i frodatori si possono agganciare per frodarci sono molteplici possono insinuarsi nel telefono possono insinuarsi nei nostri computer possono rubarci le credenziali possono rubarci le schede telefoniche quindi hanno tante tecniche che possono mettere in pista per sostituirsi a noi nell'esecuzione di queste transazioni bancarie e quindi commettere delle frodi il monitorare le transazioni bancarie con l'obiettivo di identificare delle possibili frodi e bloccarle è sicuramente uno degli ambiti del monitoraggio più spinti che possiamo avere in questo periodo ed è un ambito che viene affrontato proprio con delle tecniche simili a quelle di cui vi ho parlato prima partiamo dai dati quali sono i dati che abbiamo l'IT a disposizione per mettere in pista un sistema di monitoraggio e prevenzione delle frodi sono tutto un insieme di dati che possono essere raccolti dagli end point ovvero dai telefoni dagli smartphone dei nostri computer e che possono essere raccolti con delle tecniche che si basano su delle tecniche tradizionali di raccolta dati per il monitoraggio degli end point quindi si basano sulla javascript injection piuttosto che solo introduzione di librerie nelle app che raccolgono queste informazioni alla fonte ovvero dai nostri browser e dai nostri pc vengono raccolti tutta una serie di informazioni che servono a descrivere come noi stiamo utilizzando il browser da dove lo stiamo utilizzando come ci siamo autenticati che tipo di operazioni stiamo facendo talvolta riescono anche a raccogliere informazioni su come noi stiamo utilizzando il telefono in che posizione lo stiamo utilizzando come accediamo all'applicazione seguendo quale percorso raccolgono una marea di informazioni sui nostri comportamenti lato end point dopodiché i dati che abbiamo a disposizione sono dati che invece vengono raccolti dalle vere e proprie transazioni bancari e sono raccolti tramite anche qui tecniche di monitoraggio delle transazioni tipiche che vengono usate tipicamente dagli strumenti di monitoraggio tramite le quali riusciamo a ricavare informazioni sulla tipologia della transazione bancaria che si effettua la geolocalizzazione di questa transazione e poi tutta una serie di dati che passano all'interno delle applicazioni come il tipo di transazione le causali gli IBAN utilizzati e così via a questo punto abbiamo la base dati e la base dati è raccolta con strumenti tradizionali quello che cambia è come utilizzo questi dati ovvero come li analizzo per ricavarne delle informazioni ed è qui che entra in gioco la parte innovativa di analisi di questi dati tramite algoritmi di machine learning che vengono basati su reti neurali i dati vengono raccolti all'interno di una delle strutture dati che vi indicavo prima destrutturata basata su database non SQL e qui analizzati con algoritmi di intelligenza artificiale grazie a questi algoritmi di intelligenza artificiale qual è l'output? l'output di questa marea di dati che io ho raccolto sul campo da tutte le transazioni bancarie dei miei utenti è un valore è l'indice di rischio della transazione bancaria che io sto facendo quindi gli algoritmi di intelligenza artificiale che operano in real time associano a ciascuna transazione bancaria un indice di rischio quindi è un'estrema sintesi di tutti i dati che io ho di partenza e questo indice di rischio viene analizzato tramite gli algoritmi che dicevo prima che analizzano il comportamento dell'utente per quella precisa transazione bancaria rispetto al comportamento storico dell'utente che ha avuto effettuando altre transazioni bancarie quindi se tipicamente fa transazioni bancarie dal telefono piuttosto che se tipicamente le fa dall'Italia o dal Veneto o dalla sua regione verso quali IBAN le fa cioè viene analizzata la storia di quell'utente e in più viene analizzata quella transazione bancaria rispetto alle caratteristiche tipiche delle transazioni bancarie non fraudolenti di tutti gli altri utenti ne esce l'indice di rischio questo indice di rischio è un'informazione che viene integrata all'interno dell'applicazione digitale che eroga i servizi bancari e che in base a questo indice di rischio decide se in modo automatico se far passare quella transazione bancaria o meno l'analisi dei dati e l'integrazione applicativa in questo caso è trasparente per chi gestisce i servizi IT e dà un ritorno immediato invece al servizio di business il quale grazie a questa integrazione riesce a limitare le frodi e a bloccare ipotetiche transazioni bancarie fraudalente quindi i dati raccolti dal mondo di DLT elaborati trasformati in formazione producono di fatto valore per il business perché riducono la montare delle frodi che vengono effettuate questo è un esempio concreto di come i dati possono essere analizzati è un esempio anche se vogliamo di analisi dei dati domain centrico perché i dati che vengono raccolti sul campo sono limitati allo scenario e al contesto delle applicazioni bancarie e l'analisi che ne viene fatta viene fatta utilizzando unicamente i dati raccolti dalle applicazioni bancarie quindi è un esempio comunque di sintesi di applicazione dell'approccio domain centrico il secondo esempio invece che vi voglio raccontare è un esempio di approccio cross domain in cui informazioni che provengono da ambiti diversi vengono messe assieme per produrre informazione qui ci spostiamo di più nel mondo della gestione dell'infrastruttura e dell'architettura IT l'esigenza è quella di adeguare le risorse e l'infrastruttura a sostegno di un servizio di un servizio IT in base al carico che arriva variabile nel tempo che arriva appunto su questo servizio è un problema noto esistono degli strumenti che fanno appunto lo scaling delle applicazioni in base agli strumenti alle metriche che vengono prelevate dalle applicazioni e dagli strumenti di monitoraggio qual è il limite degli attuali strumenti quello che si osserva è che talvolta la scalabilità delle applicazioni rispetto al carico avviene in tempi più lunghi rispetto a quanto non sia l'incremento del carico sull'applicazione questo può succedere in determinati contesti quando ad esempio si verificano dei picchi di carico improvvisi dove un volume spropositato di utenti tenta di accedere a un servizio questo ad esempio si ha un esempio che mi viene in mente è quando si verificano delle catastrofi naturali degli attentati o delle notizie del genere in cui tutti i milioni di utenti cercano di accedere ai portali di informazione per avere informazioni aggiornate su quello che è successo è un esempio in cui dei volumi enormi di carico arrivano tutti insieme improvvisamente su dei portali su dei servizi digitali qui falliscono le moderne tecniche di scalabilità delle applicazioni proprio perché è vero che sono attrezzate per prevedere i picchi ma non riescono a scalare l'applicazione in tempi sufficientemente rapidi anche in questo caso sono state messe in pista alcune delle tecniche che vi ho descritto prima soprattutto per quanto riguarda l'innovazione qui riguarda prevalentemente la raccolta dei dati perché gli strumenti tradizionali di scalabilità delle applicazioni si basano su raccolta di dati dal mondo dell'IT con gli strumenti classici di monitoraggio che raccolgono informazioni sulle risorse sull'utilizzo delle risorse da parte delle applicazioni qui in questo caso invece si è pensato di aggiungere alle informazioni che vengono dal mondo dell'IT delle informazioni completamente diverse che provengono dal mondo dei social media e che costituiscono un insieme di dati completamente destrutturati che sono accessibili tramite API e che possono essere portate all'interno delle nostre piattaforme per costruire delle analisi più efficienti è un caso veramente curioso perché mai avrei pensato di utilizzare le informazioni che stanno all'interno di Facebook LinkedIn Twitter Instagram e così via per alimentare un sistema di gestione del carico dell'infrastruttura IT eppure queste informazioni sono estremamente importanti perché consentono agli algoritmi di analisi del carico di prevedere i picchi in un modo molto più pronto e molto più veloce di quello che non si riesce a fare osservando il carico con delle metriche standard prese dal mondo dell'IT questo ha fatto sì che grazie all'utilizzo di queste informazioni gli algoritmi di analisi dei dati riuscissero a prevedere il picco molto più velocemente e a garantire la scalabilità dell'applicazione in un tempo molto più veloce e soprattutto prima che il picco arrivasse a destinazione proprio nell'applicazione questo è un esempio molto interessante perché fa vedere come i dati destrutturati i dati strutturati possono essere messi in piedi e insieme e soprattutto come possono essere messi insieme per uno scopo comune informazioni che provengono da ambiti diversi un altro esempio di analisi cross domain è un esempio più conosciuto nel mondo dell'IT sappiamo quanto è importante una volta che si verifica un disservizio nei servizi dell'IT essere supportati nel capire qual è l'anomalia che si sta verificando qual è il disservizio che si sta verificando perché è sempre più importante fare in modo che il ripristino del servizio TIA venga nel tempo più velocemente possibile gli strumenti di monitoraggio attuali quindi parlo di strumenti di monitoraggio dell'infrastruttura piuttosto che strumenti di monitoraggio della rete dell'infrastruttura si stanno dotando hanno al loro interno la possibilità di avere degli algoritmi che consentono l'anomali detection automatica ovvero analizzano in tempo reale i dati raccolti e nel momento in cui si verifica un disservizio forniscono delle indicazioni della possibile causa di questo servizio queste indicazioni sono ottenute andando ad analizzare tutti i dati a disposizione cercando di capire quali siano le metriche che maggiormente sono ritenute responsabili del del disservizio tuttavia questo non è sufficiente non è sufficiente perché se io rimango confinato ai dati raccolti da uno specifico ambito di monitoraggio mi perdo degli eventi o delle informazioni che provengono dagli altri ambiti quindi quello che si cerca di fare è di portare questo approccio di automatica anomaly detection mantenere l'approccio di automatic anomaly detection ma farlo in un contesto cross ambito in questo caso quello che si fa è prendere proprio quello che abbiamo detto nell'introduzione quindi prendere a fattor comune i dati che provengono dai sistemi di monitoraggio prendere a fattor comune i dati che provengono anche dagli eventi dai log dai messaggi che sono sparsi nel mondo dell'IT e portarli all'interno di una piattaforma comune l'elemento di innovazione in questo caso non è tanto l'algoritmo poi di analisi dei dati che è mutuato dagli algoritmi esistenti già presenti all'interno dei singoli strumenti ma è la possibilità di realizzare una base dati unica che contenga tutte queste informazioni e che consenta di elaborarle in maniera veloce e in real time come dicevo prima questo si può fare solo allestendo quello che viene chiamato data lake che tipicamente è un sistema di repository centralizzato non strutturato dove tutti i dati vengono conservati sotto forma di documenti in modalità destrutturata e questi sistemi sono ottimizzati per poter eseguire ricerche all'interno di questa base dati nel più breve tempo possibile è questo che ci garantisce in qualche modo di poter elaborare poi questi dati con le tecniche che già si conoscono per fornire un'anomaly detection automatica ma che tenga conto di tutte le informazioni di contesto che io posso raccogliere sul campo i passaggi che vengono fatti per ottenere poi l'anomaly detection sono prendo tutti i dati prima cosa che cerco di fare è riduco il rumore ovvero riduco da tutti questi dati che mi stanno arrivando le informazioni ridondanti le informazioni che non rappresentano un'anomalia una volta che ho ridotto il rumore cerco di applicarci una correlazione per capire quali sono gli eventi i messaggi le segnalazioni che mi arrivano quali sono quelle che sono correlate tra di loro l'output di questa elaborazione è l'anomalia ovvero una situazione anomala che si sta verificando all'interno dei miei servizi IT correlata quindi con una contestualizzazione rispetto a tutti gli andamenti delle metriche che io sto osservando questo consente a chi deve fare poi supporto e risoluzione troubleshooting dei problemi di avere già una sintesi su cui focalizzarsi su cui focalizzarsi perché il problema attuale è quello che se io mi focalizzo su ogni singola segnalazione proveniente da ogni singolo sistema di monitoraggio e da ogni singolo evento destrutturato i team specialistici non ce la fanno a stare dietro a questa mole di dati di segnalazione da gestire mentre avere già uno strumento che in automatico mi fa sintesi mi fa correlazione mi dice esattamente dove devo concentrarmi e anche qual è la possibile causa del problema ho efficientato molto il processo e il team di specialisti lo posso focalizzare a guardare ad analizzare quelle situazioni di emergenza che sono veramente importanti questo approccio cross domain sicuramente porta dei benefici nel mondo delle operation dell'IT soprattutto perché facilita le attività di analisi troubleshooting riducendo i tempi di troubleshooting e quindi di conseguenza riducendo anche i tempi di servizio dei servizi di business è un volano che partendo dai dati grezzi del monitoraggio porta valore al business anche in questo caso spendo un ultimo minuto per raccontarvi l'ultima esperienza che di analisi dei dati in questo caso domain centrica in questo caso il problema lo use case che abbiamo affrontato è uno use case legato alla customer experience come dicevamo prima è sempre più importante assicurare una customer experience soddisfacente ogni singolo utente quello che si osserva nello scenario attuale è che gli strumenti di monitoraggio sono orientati ad assicurare delle buone performance delle buone disponibilità una buona customer experience mediamente alla maggior parte dei propri utenti quindi mi focalizzo sui valori medi verifico se nei valori medi ci sono delle anomalie se i valori medi escono dalla baseline e così via in realtà quello che diventa sempre più importante è andare a scovare anche se c'è un solo utente o un piccolo gruppo di utenti che stanno avendo dei problemi con il mio servizio digitale perché se quegli utenti quegli utenti possono essere anche pochi ma possono essere estremamente importanti basta anche un solo utente che non sia soddisfatto del nostro servizio per minare l'intero servizio quindi in questo caso se vogliamo un caso di elaborazione è il contrario perché dai dati che io ho a disposizione che sono tantissimi non devo ricavare dei comportamenti medi dei valori medi come tipicamente faccio facendo sintesi ma invece devo andare a scovare in questa marea di informazioni proprio quelle informazioni che mi mettono in evidenza che un singolo utente un piccolo gruppo di utenti sta avendo dei problemi nell'utilizzare i miei servizi IT questo viene fatto anche in questo caso raccogliendo le classiche metriche con gli strumenti di monitoraggio e già ce li abbiamo a disposizione nella maggior parte degli strumenti di monitoraggio ancora una volta dati relativi agli end point utilizzati dagli utenti piuttosto che i dati relativi al monitoraggio delle applicazioni quello che qui porta valore è come vado ad analizzare questi dati perché non sono interessato ad analizzare dei comportamenti standard su questi dati ma sono interessata ad andare a cogliere la peculiarità di alcuni utenti e questo ad esempio lo abbiamo realizzato combinando insieme delle tecniche di clustering di algoritmi di machine learning di clustering per isolare le bolle degli utenti che hanno problemi nell'utilizzo di alcuni servizi piuttosto che anche delle tecniche di language processing per andare a capire su quali parti dei servizi digitali questi utenti avessero dei problemi mettendo assieme quindi la parte innovativa in questo caso è la combinazione di più algoritmi di intelligenza artificiale combinati tra di loro mettendo assieme questi algoritmi si è in grado di andare a sollevare degli allarmi in questo caso non generici ma degli allarmi specifici su degli utenti particolari che stanno avendo il problema questo permette di indirizzare le problematiche anche dei singoli e soprattutto di portare valore all'utente finale che si sente comunque preso cioè si sente accolto ci si prende cura di lui e in questo caso aumenterà per lui l'utilizzo che fa del nostro servizio e anche la sua soddisfazione nell'utilizzarlo questa tipologia di tecnica ad esempio è utilizzata anche dei contact center che tante volte prendono l'output di queste segnalazioni per capire quali sono gli utenti da contattare per avere per capire che problematiche hanno e per dar loro un feedback o magari dargli anche una ricompensa per il fatto che hanno subito un disservizio quindi anche in questo caso l'output non solo può essere utilizzato nell'ambito dell'IT ma può essere utilizzato dal business per avere più cura dei propri clienti e mantenere alto il livello di soddisfazione nell'utilizzo dei servizi io ho concluso un po' la panoramica eccoci grazie Elena io vedo che ci sono delle domande le vedi anche tu sì devo uscire dalla presentazione per poterle vedere perché grazie altrimenti altrimenti ce le dico io non è un problema eccolo qua allora ci sono delle domande alcune relative allo sviluppo delle architetture applicative i microservizi i microservizi in realtà vengono sviluppati in Java in Python in tantissimi linguaggi una delle peculiarità dei microservizi è proprio quella che ogni microservizio può essere sviluppato con il linguaggio di preferenza alcuni utilizzano anche il Go e la cosa bella è che poi collaborano tra di loro mettendo a disposizione un layer di comunicazione basato su API e che quindi rende la scelta del linguaggio di sviluppo assolutamente indipendente rispetto a quello che io voglio realizzare per quanto riguarda invece le tecnologie utilizzate per la customer experience anche qui le tecnologie che vengono utilizzate prevalentemente in questo in questo periodo sono delle tecnologie che prevedono l'injection nei browser piuttosto che nelle app di specifici javascript o librerie che consentono di recuperare lato client le informazioni che servono per capire come l'utente sta utilizzando l'applicazione e quali performance sta avendo nell'utilizzo di questa applicazione non ho invece capito l'altra domanda non so se se io uso una VPN non tor i dati non sono falsati non mi è chiarissimo a che cosa si riferisce quindi magari resto a disposizione per un approfondimento perfetto intanto ti ringrazio perché il tempo è scaduto è abbastanza tiranno oggi quindi ti ringrazio del contributo è stato un piacere averti qui grazie a tutti quindi ti chiedo di scondividere il file quindi hai già tolto la condivisione perfetto quindi ringrazio te ringrazio Kili Group per te come ci avete accordato grazie a voi e buona giornata a tutti grazie altrettanto grazie a tutti